Da ieri è chiuso il tunnel pedonale di collegamento tra il Terminal Lorenzo Natale e Piazza Duomo, una chiusura che si è resa necessaria per consentire l'allestimento del cantiere e l'avvio degli scavi per realizzare il collegamento meccanizzato tra il Terminal e Viale e Rendina, intervento che vede il Consiglio regionale come soggetto attuatore. Per tutto il periodo di chiusura, per limitare i disagi alla cittadinanza, sarà potenziato il servizio di navetta gratuita per il centro storico, corse non stop ogni 10 minuti dalle 7.30 sino alle 21. Il servizio, svolto con le navette elettriche, unito alla gratuità della sosta presso il megaparcheggio di Colle Maggio, consentirà a cittadini, turisti e commercianti di raggiungere il centro in modo veloce e sostenibile. Il Comune da tempo sta tentando di rilanciare la struttura del megaparcheggio, interessata anche da lavori di restyring e altri ce ne saranno. Vista la carenza di parcheggi in centro, è una buona soluzione e l'assessore Paola Giuliani spinge sempre più all'utilizzo. Allora, questa chiusura si rende necessaria perché la realizzazione dell'ascensore che sta realizzando la Regione comporta necessariamente la chiusura del tunnel per poter portare fuori i materiali di scavo. Quindi il tunnel necessariamente sarà chiuso, presumibilmente fino alla fine dell'anno. Ci rendiamo conto che questo può creare dei disagi ai cittadini, per questo abbiamo voluto potenziare la navetta. Questa navetta adesso partirà molto presto, già dalle sette e mezza la mattina e farà l'ultima corsa alle 21. Auspichiamo quindi che anche coloro che vengono in ufficio in centro o nei negozi o comunque vengono in centro anche per lo shopping e possano utilizzare il terminal di Collemaggio e usufruire di questa navetta. In effetti non è mai riuscita a decollare, neanche ai tempi del funzionamento del tapirulano. Io mi ricordo tanti anni fa c'è sempre stato un certo disagio da parte dei cittadini ad utilizzare questa struttura che invece in altre città vengono usate con tranquillità. Adesso partiranno anche dei lavori per un restyling del terminal, quindi sarà potenziato l'impianto elettrico, saranno rifatti i bagni in maniera più adeguata, anche con fasciatoi per permettere magari a qualche mamma che viene in centro per passeggiare di poter cambiare comodamente il bambino. Quindi, insomma, questi accorgimenti che mirano a rendere più accogliente, diciamo, il terminal. I cittadini si devono rendere conto che è difficile in una città come l'Aquila riuscire a realizzare dei parcheggi in centro.